A seguito dell'informazione, della notizia, della positività di un ospite presso l'RSA San Giuseppe, l'ASLA ha disposto i tamponi a tappeto su tutta la struttura e, devo dire, con un atto importante di responsabilità, tutta la struttura si è posta in quarantena. Di che numeri stiamo parlando? Gli ospiti sono intorno ai 70, più gli operatori, credo che si superino le 100 unità. La struttura è in isolamento domiciliare, tutta la struttura, abbiamo fornito dei letti tramite la protezione civile, quindi abbiamo dato 25 letti in più, proprio per dare la possibilità a tutti di rimanere all'interno della struttura e stiamo fornendo supporto, qualora facessero di richiesta. E comunque, in ogni caso, c'è l'ASLA che si sta occupando di questo. dei letti tramite... Sì, purtroppo abbiamo avuto un decesso di una persona che comunque aveva già delle pregresse e patologie, però il fatto che sia risultato positivo al coronavirus è una notizia che ci preoccupa, ma che ci impegna a essere ancora più attenti nella gestione dell'emergenza. Sì, purtroppo abbiamo avuto un decesso di una persona che comunque aveva già delle pregresse. Sì, un certo gruppo di positivi a Canosa li abbiamo avuti a seguito del focolaio che si è innestato su Andria e quindi a Canosa, di conseguenza, ci sono stati dei casi di positività. Io chiedo una maggiore attenzione da parte dell'ASMA, da parte di tutti, a attenzionare i sanitari, perché sono in prima linea e quindi devono essere protetti e garantiti da parte di tutti, perché sono loro che mantengono in piedi il sistema sanitario canosino, ma in realtà è tutta la regione. di conseguenza ci sono stati... Siamo in un reggio abbastanza basso, però occorre non mollare, occorre rimanere a casa, occorre in particolare nei luoghi di lavoro avere gli idoni dispositivi. Ecco, questo è fondamentale, perché la gran parte dei contagiati sia all'interno di un luogo di lavoro o in quei luoghi dove inevitabilmente il contatto fra persone è molto stretto.